Ci sono uomini e soli per la sete d'acqua e dura che ha studiato da prete per vent'anni di galera e i miei madri che non li hanno mai svezzati le donne che li ha rivoltati e persi o solo perché sono dei diversi io per le città e per l'immensità se è vero che ci sei e hai piangiato più di noi vediamo se si può interparare queste donne e piangiarne un po' per loro e piangiarne un po' per noi ma il mio che invece vuoi non devi pensare ma poi ci non siamo in cielo e se un uomo paga del frito è soltanto un uomo solo La sorpresa dei pui in Piazza Dante è stato il clou della giornata dedicata alla città del sorriso come è stata chiamata oggi Napoli al centro di numerose iniziative fra Via Toledo, Piazza San Domenico Maggiore e Piazza Dante legate al concetto di sorriso e buon umore in occasione delle manifestazioni organizzate per inaugurare un nuovo tipo di concorso del Super Enalotto i pui si sono appena riuniti per festeggiare i 50 anni dal primo 45 giri del 1966 e nella formazione oltre a Stefano Dorazio Robi Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian è rientrato anche Riccardo Fogli Allora, i pui sono qui questa sera abbiamo avuto il sindaco perché stamattina hanno avuto una targa sono stati insegniti dal comune di Napoli e dal sindaco un'onoreficenza Riccardo, Riccardo, ci vuoi raccontare della mattinata passata insieme al sindaco? Beh, è stata una mattinata bellissima abbiamo constatato la bellezza di questo uomo l'intelligenza, la simpatia una serie di caratteristiche che a volte possono non trasparire dalla televisione quando incontri l'essere umano e scopri che è il migliore è come quando vedi uno dei pudici madonna, sono ancora più belli sono piccoli ma avevo detto che erano belli, ma sono più belli ancora un abbraccio, un saluto particolare alla Città del Sorriso da Gigi Finizio è bello essere qua, è bello essere presente nelle iniziative quindi io ci sono, soprattutto per Napoli Ciao Web TV del comune di Napoli ma sono emozionatissimo per pochi minuti saremo dipendenti del comune di Napoli noi, sì, in questo momento, con questo microfono argentato io sono dipendente sono dipendente noi dipendiamo da Napoli cioè siamo dipendenti da Napoli ma non di Napoli, da Napoli perché abbiamo una grave dipendenza perché noi, ogni volta che veniamo qui, sorridiamo è la Città del Sorriso qui, qui, qui qui si sorride, a Napoli si sorride ma se vai un po' più lì, ridò ancora di più che vai un po' più... no, devi restare... perché se vai un più... anche... no qua, a Napoli si ride, ciao a Napoli